Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo profilato Laica 699 EcoVip 3009. Se volete le istruzioni per capire la scheda, tutti i suoi accessori, cliccate nella vostra destra in alto che ha detto tutte le informazioni che vi occorrono. Potete vedere il prezzo è su strada e non di listino, cioè il massimo che potete spendere su questo campo e poi risparmi sicuramente dalla caravambace. Andiamo a vedere l'abitabilità di questo campo. Lo sportello posteriore, eccolo qua, come sempre c'entro dentro per farvi capire la grandezza. Qui contenitori moto, tavoli, sedie, acqua e quant'altro, vino, meglio che l'acqua, lo potete tranquillamente stivare. Questo è lo spessore del doppio fondo, quindi questo ha un doppio piano, dove al suo sottostante ci sono tutti i serbatoi, sia potabile che il recupero delle acque chiare e poi dei gavoni che vi andrò a far vedere. La parte, guardate l'esterno, questa bella finitura con il nuovo logo Laica, lo sportellino laterale, comodo per accedere nel caso altra parte siete stretti e non potete entrare. Poi le due bombole da 10 kg, qui il carico dell'acqua, il WC, la cassetta del WC e questo invece lo sportello che si accede sia dal lato laterale, questo qui, sinistro, sia dal suo interno. E ora andiamo a vedere. E ora entriamo dentro. La zona giorno dell'EcoVip sono sempre zone giorno molto comode. Guardate il tavolo che si muove, si gira e quindi questo è una bella dinette, uno, due, tre, quattro, cinque, per sei persone tranquillamente. Molto luminoso, c'è una finestra apribile qui sopra, una laterale e poi la porta, come vedete, dà molta luce. La parte sopra, qui c'è il suo contenitore laterale, un bel piano qui di appoggio che ci vengono messe anche tante cose durante il viaggio. Questi sono i pensili sotto il letto. Questo campe è un camper 6,99 con i letti singoli. L'abitabilità di questo campe è comodissima per due, ma all'occorrenza vi faccio vedere il letto matrimoniale, che eccolo qua. semplicemente si butta giù, guardate com'è facile. Poi, come vedete, a volte dicono blocca la porta, però come vedete l'accesso è ben chiaro, quindi abbassarsi e scendere, abbassarsi così e scendere e uscire, cioè è un gesto molto semplice e pratico. Poi, per salire, ci sono due possibilità. Una, il classico, anteriore con la scaletta, e poi una, scusate, posteriore con la scaletta, e poi la parte anteriore appoggiando i piedi sopra la seduta. Qui, come vedete, ci si sta tranquilli. Qui, è luminoso e aereggiato. Io sono un metro e ottante e come vedete ci si sta molto bene. Eccomi qua. C'ha sia la protezione per bambini di dietro e che davanti, quindi nipoti o sono tranquilli a dormire, ma anche una coppia di adulti ci sta tranquillamente. Il particolare di questa rifinitura curvata è, diciamo, quello che caratterizza il mobile dell'EcoVip. Vi faccio vedere la cucina, tre fuochi, un bel lavello molto profondo e funzionale. Cassettiera, porta posate, cassettiera sotto, ultimo cassetto grosso e profondo. altro contenitore sopra il frigo e poi frigorifero grande con il congelatore. La parte posteriore ha questo scalino che si allunga e sia questo che questo sono due contenitori. L'accesso, quindi, è molto facile e come vedete è un letto veramente grande, grande, grande. ha il suo oblo e guardate com'è grande, sia per me che in due, uno di qui, uno di là, sia eventualmente una terza persona. La parte interna, l'allungamento, è un optional, però, come vedete, avendo un optional, qua può diventare un enorme letto matrimoniale per traverso, quindi si adatta a qualsiasi situazione abitativa. Come torno a dire, è un camper comodissimo, due persone, che può diventare un quarto tranquillamente in relazione ai vostri bisogni. E ora andiamo nel bagno. Il bagno ha questo lavabo bello profondo, come vedete mi ci lavo bene, la sua finestra e il suo oblo. Per quanto riguarda il water, eccolo qua, quindi un'ottima seduta, anche con appoggio. Poi, per quanto riguarda la doccia, ora sta doccia è bianca, quindi si vede un po' male, non mi vedete, però immaginatevi, guardate, questa è la grandezza della vasca, quindi c'è una vasca, uno spazio bagno doccia e confortevole, insomma, ci si lava tranquillamente, perché questa parte alta veramente... e poi così, quindi, cioè, veramente, guardate, cioè, ci sto molto bene. Mobiletto e anche di qua un altro contenitore. Quindi vi aspettiamo per farvi vedere una bella gamma di prodotti Laika e tanti altri marchi scelti per voi. Ciao!